Sarà per la nuova e suggestiva location, immersa nel bosco, per la neve caduta sull'ivigno metà settimana o semplicemente per la passione trasmessa da ogni singolo partecipante, ma la quarta edizione del Simposio di Scultura Internazionale di Wudenart è riuscita più che mai ad avvicinare i visitatori al lavoro degli artisti del legno che per una settimana hanno creato le proprie opere intagliando tronchi di larice sotto gli occhi attenti del pubblico a corso al Larix Park. La Kermes, organizzata come sempre da Vania Cusini in collaborazione con la cooperativa L'Impronta, si è conclusa domenica con la premiazione del concorso che ha visto la giuria scegliere tre dei dieci scultori di fama internazionale in gara. Lidia Viganò, membro dell'organizzazione, Giovanna Barolo, docente di storia dell'arte al liceo artistico di Morbegno e Ianna Rocca, Giovanni Livignasco, appassionato di arte e scultura, hanno assegnato il primo premio all'opera delle chiese Davide Balossi con la scultura Andare, identificativa della storia e delle espressioni di ogni essere vivente. Secondo posto per il russo Konstantin Evdokimov con la sua Night Flight, legata alla natura, alla competizione, alla lotta e dalle dinamiche che la caratterizzano. Terzo posto per la svizzera Simon Karol Levi, che ha abbinato musica e scultura, le sue passioni, scolpendo Arpa del Bosco, dedicata all'animo umano e al suo cambiamento nel cammino della vita. Ora non resta che attendere la fine dell'estate per conoscere i gusti del pubblico, che potrà contribuire, scegliendo la propria scultura preferita, semplicemente visitando la galleria d'arte a cielo aperto allestita all'Arix Park, compilando la scheda di voto disponibile al parco.